Non è sicuro, non è accertato, ma è un timore forte che abbiamo, per cui abbiamo intensificato oltre che l'attività di spegnimento, anche l'attività di verifica. I carabinieri in particolare stanno facendo queste verifiche. Se così fosse, se venisse preso questo criminale, meriterebbe davvero una punizione severa ed esemplare. Detto questo, siamo attivissimi, sono arrivati canadere anche dall'estero, grande collaborazione tra la protezione civile regionale e i vigili del fuoco, tutti stanno facendo il loro dovere. Sono oltre 500 gli eteri bruciati di bosco, per cui pensiamo anche a una misura per ripiantumare poi tutti questi boschi che sono andati bruciati. Il tavolo sull'autonomia, a seguito del referendum, il 7 di novembre il Consiglio regionale approverà la risoluzione. Mi auguro all'unanimità, comprendendo tutte e 23 le materie, e poi comincia la partita. Sono molto ottimista, molto motivato, grazie ai 3 milioni di Lombardi, più di 3 milioni che sono andati a votare. Sarà una partita difficile e complicata, ma proprio perché è dei Lombardi e non di Roberto Maroni, vorrei che tutto il Consiglio regionale approvasse all'unanimità, perché voglio coinvolgere tutte le forze politiche, anche quelle di opposizione, in questa trattativa col governo. Entro domani saranno riconsegnati tutti alla società sbarmatica, che ha per contratto 30 giorni di tempo per fare il ricondizionamento. In questi 30 giorni svilupperemo tutti i software che serviranno alle scuole, ce li hanno chiesti anche le forze di polizia, bene, e saremo pronti, dopo che sarà finito il ricondizionamento, a consegnarli. Faremo dei test in modo tale che nelle scuole con le forze di polizia, ai primi di dicembre immagino, in modo tale che poi possano essere consegnati 24.000 tablet, come avevamo promesso, alle scuole, ma anche alle forze dell'ordine. Questo mi fa particolarmente piacere.